Dunque la partita è cominciata fra Inter e Fiorentina Qui Manuel deve stare molto attento e poi superare così, questo è un gran gol Il bullet, mi aspettavo il passaggio al centro Imprendibile, come sembra imprendibile Ronaldo, sembra aver lasciato Remi in marca Insa il pallone all'interno dell'area Col sinistro, Ronaldo spacca la porta, il portoghese Ronaldo dentro per Dybala, con il destro Lui arriva fino al limite dell'aria, poi colete dentro per Kuluzeski